Atletica Atletica, tamberi verso i mondiali di Londra, voglio una medaglia Atletica, tamberi verso i mondiali di Londra, voglio una medaglia all'altista azzurro, sarà durissima, sarà un'impresa, ma quello che mi portato fin qui è l'idea di salire sul podio. Gianmarco Tamberi è abituato a saltare verso l'alto e a due giorni dall'inizio dei mondiali di Atletica a Londra non si tira certo indietro, non sono venuto qui per fare presenza, io voglio una medaglia ha detto l'altista azzurro. Sarà durissima, sarà un'impresa, ma quello che mi portato fin qui è l'idea di salire sul podio. Il giorno dopo l'infortunio ho ricominciato da capo con in testa questo mondiale, è stato un percorso duro. Gimbo, si prepara al ritorno dopo 13 mesi e dopo il crack della caviglia che ha infranto il suo sogno olimpico, da lì ho ricominciato da capo, da zero, con in testa il mondiale di Londra, ed è stato un percorso durissimo, pieno di alti e bassi. A maggio, improvvisamente, in un allenamento, ho ritrovato le sensazioni giuste. Non vedo l'ora di saltare ha detto alla vigilia del mondiale. Ci ho creduto sempre, anche quando ero lontanissimo dal tornare in pedana, mi sono forzato a rimanere a dieta quando ancora avevo le stampelle. E ora non sto nella pelle. Atletica, També ritorno a saltare. Ciao!